Benvengano le segnalazioni a parte dei cittadini per il rispetto delle norme per quanto riguarda i pubblici esercizi. Noi ogni volta che arriva una segnalazione, un esposto alla mia segreteria, viene subito girato prontamente alla Polizia Municipale per fare i dovuti controlli. Movida violenta, unita alle sofisticazioni del cibo servito ai tavoli come fresco, anche quando la cucina risulta inesistente, oltre a scarichi non a norma. Continua la nostra attenzione per migliorare la qualità del servizio offerto sia ai cittadini veneziani che ai turisti che vengono a visitare la città. I controlli incrociati tanto a Venezia quanto in terraferma, grazie agli esposti presentati dai cittadini in procura e di cui ora anche il Comune si farà carico, promette controlli più serrati nei locali della Movida, grazie anche alla sinergia con Polizia Municipale e ULTS. Diciamo che la situazione a Venezia è abbastanza sotto controllo, riusciamo a lavorare bene in sinergia con le altre istituzioni che devono portare qualità nelle nostre attività, come l'ASL e come appunto il NAS. Abbiamo chiuso un'attività poco tempo fa per sporcizia e per cibi mal conservati. Abbiamo chiuso un'attività poco tempo fa per rispondere a tutti i nostri spettatori e per rispondere a tutti i nostri spettatori e per rispondere a tutti i nostri spettatori. Grazie. Grazie.